Signori, secondo film del cofanetto di Polanski, Repulsion. Film del 1965, oserei dire, stupendo. Non ho letto né trama né niente, ma c'è una Catherine de Nouveau spettacolare. Il film ti tira dentro subito, è una roba incredibile, bianco e nero, voto 8.8, consigliatissimo. E basta così, non c'è niente altro da dire, possono dire quello che vogliono su Polanski, ma porca miseria, non li ho visti tutti, ma fino ad adesso quello che ho visto non mi è dispiaciuto. Basta così, ho già parlato troppo. Un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un bel like. Ciao ciao!